Centrale, siamo all'inseguimento del veicolo qua sulla Alta Capital Boulevard, Alta Street Ora procediamo in Alta Street Si tratta di un rapimento Stiamo inseguendo l'auto, si tratta di un SUV Nero E ci siamo dell'unità centrale Unità Unità centrale Ci serve un'unità locale che venga A aiutarci a inseguire il sospetto Oh cavolo Il sospetto si è schiantato centrale Centrale ci sembrano più unità Si è schiantato Ripeto si è schiantato Richiede delle strisce chiudate Delle strisce chiudate per fermare l'avanzata del veicolo Cavolo le strisce chiudate sono andate Cavolo ho fregato le strisce chiudate No no Si è rischiantato centrale Fermo, ferma Giù Fermo la collega Isra Ferma Giù a terra Giù 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 Ti devi fermare Giù C'è un po' un signore in mezzo Cavolo Giovanni Dentro Bravo Bravo Giovanni Abbiamo arrestato centrale Perfetto Allora E ora Vieni a chiamare un bel trasporter Centrale ci mandate un trasporter Andiamo a spegnere le sirene nel frattempo che arriva il trasporter Eh no sono i colleghi con le sirene Non possiamo farci niente Ah se stanno già portando via Perfetto Allora era il trasporter che è arrivato Perfetto Centrale siamo disponibili per una chiamata Spegniamo i lampeggianti Collega Salga Salga Spegniamo le sirene Spegniamo i lampeggianti Centrale ci siamo per una chiamata Comunque alla fine hai visto non era un rapimento Era solo una donna che scappava Centrale noi siamo operativi Abbiamo un mandato di arresto Per un certo James Douglas Centrale mandateci un'unità Eccolo vedo i lampeggianti 3 2 1 vai 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 Centrale siamo entrati nell'area Eccolo eccolo Vai in alto Fermo 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 Giù Non faccia un passo Fermo Inseguilo Inseguilo Fermo Vai Giovanni 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 Vai 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 Giovanni Corri Dobbiamo prenderlo questo Non può scapparci di nuovo Sparare È volato Meno male che non è morto Ci sono dei colleghi in macchina Spare in aria Magari si spaventa Hai colleghi in macchina Vai colleghi Ah lo vogliono prendere in macchina Eh sono con la paletta fuori Dai 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 Mamma mia Vai Giovanni Colpito Giovanni siamo tutti con te Corri Devi fermare Non sta beretta Niente Niente Non si vuole fare Tejera Bravo Bravo Giovanni Fermo Fermo Non fare un passo Giù 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 Giovanni Arrestalo Che poi è sempre qua la zona Se ci fai caso Dove ci sono Quelli Con il mandato di arresto Sì Siamo lì Perfetto Ah ma non è stato È stato Giovanni No Sì Ah no è qua il Giovanni Centrale Ci serve che ci mandate Basta Basta sirene Collega Non te la porti Ah sembra Aspetta Sembra Che sia Alcolizzato Test anti droga Sì Signore Si giri un secondo Per favore Che gli facciamo Un giusto test anti alcol Test alcolemico Per favore Eh ovvio Un botto sopra il limite Vediamo se Sicuro è drogato Non togliamo subito Sicuro è drogato Zio No Non è Vabbè Per te Chiamiamo Un bel trasporter E noi Ce ne possiamo andare No no Aspettiamo il trasporter Vabbè lo aspettiamo tanto Ah ma è già quest'auto È già arrivato Sì collega è qui Ah ci stava seguendo La centrale è qui No non sono loro Guardate che sono già davanti La centrale Eh La centrale Ci mandate un'auto Ragazzi Giovanni ci ha abbandonato È andato a casa Ed è arrivato Con noi Rosario Eccoci qua Ora in questo momento Siamo in pattuglia qua E naturalmente Aspettiamo una chiamata Siamo al negozio Dove c'è la rapina Centrale Siamo davanti al negozio È un suburban Di vestito Wow Spara Spara Ha un cane da guardia Centrale Ci serve Back up Back up Merita Rosario Servono dei colleghi Carabiniere Sono arrivati i carabiniere Centrale Sono stato colpito Nooo Ok siamo in pattuglia qua Con un collega Sempre con Rosario Magari fermiamo un'auto Che cazzo Oh Scappa Scendi i lampeggianti Collega Lampeggianti Seguimi Vai Ci segua Ci segua Scendo eh Ci fermiamo qua Dal caro Trezzi Va bene Centrale Stiamo facendo un controllo Ah C'è con noi anche Rosario Perfetto L'abbiamo fatto scendere Si sente d'ora di alco Collega Puoi fargli un test alcolemico Per favore Fammi vedere Com'è Ecco Obriaco Eeeh Sto pure drogato Puoi Facciamo un test antidroga Per favore Grazie Sarà sicuramente anche drogato Eh infatti Invaluano e cocaina Eeeh Gli facciamo qualche domanda? Si Hai bevuto? Ti risponderà di no Con uno sciottino di vodka Mh Hai Assunto droghe Recentemente? Si Onesto Almeno è onesto Collega Procedi di arrestarlo Per favore Vai collega Arrestalo Posso Nel carabiniere Ok Non è temessa Eeeh Eeeh Centrale Ci mandate un trasporter Sto già arrivando Carabiniere Arrivano Eeeh Amico mio Amico mio Eeeh Mi dispiace Collega Non possiamo andare Ma c'era anche un Un'auto Dei carabinieri Di fattoria Collega Vieni Spegniamo i lampeggianti Ok Centrale Vediamo la persona Con il coltello Procediamo Scendi Rosario Vieni Vieni Rosario Rosario vai Prendilo tu Questo corre Colpito Vai Rosario Vai Rosario Questo corre Rosario Arrestalo Servete Rosario Fermo Rosario spara No è di taser Bravo Bravo Rosario Taser Taser Giù Metti le mani in alto Metti le mani in alto Metti le mani in alto Bravo Prendi il coltello Prendi il coltello Sono arrivati dei colleghi Giù Giù Bravo Giù Bravo Giù Bravo Rosario Questo ce lo portiamo noi Vai Prendiamocelo noi Sì un attimo Dai portiamolo colleghi Dove C'è Ho salvato Rosario Hai visto come l'ha aggredito L'ha aggredito in una maniera assurda L'ho visto anch'io Ma la nostra auto Qui è qui Ok Salga in auto Dai In auto Siamo aperta la portiera Ora entra Prendiamo la portiera Siamo Sali Rosario Sali Sì un peggio E mo Andiamo alla centrale Più vicino Eccoci qua Sì lo porto io Lo porto io in centro Lo porto io Portiamolo noi Porto io Senza Volà coltire il rosario Che voleva Cioè povero rosario Lavora da poco con noi Infatti Già la voleva ammazzare Ragazzi abbiamo portato il detenuto in prigione E purtroppo Lspdfr è crashato E non ci fa più rientrare Suppongo sia un problema Dei server Non di rockstar Perché gta me lo fa avviare E quindi non è neanche un problema mio Che ho sbagliato ad aggiungere una mod Che quindi Ha tipo rotto dei file Ma quindi suppongo sia un problema Proprio di lspdfr Più che di lspdfr Di Rage Pluginook Penso sia proprio un problema Del loro server E quindi Questo qua sarà il video Che se riuscite a fare Cioè solamente questo pezzo Prima che Crashasse il tutto Noi avevamo in programma Da fare 3-4 video Da poi caricarveli Quindi è crashato E niente Spero che questo video Vi possa piacere Noi ci becchiamo Alla prossima Ciao Ovviamente quando lspdfr Funzionerà Ci sono Ciao